Il problema principale per quanto mi riguarda è quello della logistica. Tenete presente che io ricevo quotidianamente uno o due mezzi che arrivano tutti dalla Toscana, da Firenze, da Lucca, devono percorrere 160 km in più perché devono fare il giro da Genova Est e devono arrivare più a Carrasco, ritornare a Genova Est e ritornare in Toscana. Ancora oggi ho dovuto fare un assegno a un autotrasportatore, per il trasporto è venuto a portarmi una roba, ha voluto dei soldi in più, ho dovuto rimettere i cibi personalmente, come azienda chiaramente, per farmi mandare la merce e poter lavorare. La mia speranza qual è? Quella che faccio in tempi brevissimi, il ponte nuovo, due o tre mesi al massimo e poi spero che tutte le aziende, cioè tutte noi aziende magari ci riuniamo, vediamo un attimino di chiedere alla regione, alla provincia, penso alla regione perché la provincia so che non ha neanche un centesimo, ho degli sgravi fiscali oppure dei contributi che ci permettono di recuperare almeno qualcosa di tutti i costi che stiamo sostenendo in questo periodo e nei mesi futuri. I mesi non potendo più passare più di 10 tonnellate sul ponte devono andare a fare il giro da Genova, quindi stiamo perdendo clienti e praticamente lavoro. Ecco, facciamo un qualche esempio pratico. Questi mezzi che sono qui alle nostre spalle, da dove arrivano? Questi qua arrivano tutti da Genova. Devono entrare e uscire dall'autostrada a Genova, fare bargali e venire giù nella Fontana Buona. Un cliente dei Sestri che avevamo qua il mezzo, il giorno dopo, pochi giorni dopo che è venuto giù il ponte, ha dovuto andare a Genova per andare a Sestri Levante. Lei ha dei costi maggiorati, quindi? Ma senz'altro, perché poi quando arriva con un rappresentante, sa com'è, ti tirano sempre qualcosa, perché purtroppo loro hanno delle spese e poi chi ci rimette siamo noi. La soluzione del ponte provvisario per lei sarebbe stata l'ideale? Se i tempi vanno così alla lunga come si propensano che vadino, è un disastro, era meglio sicuro.